Buongiorno e benvenuti nel mio canale il mondo dell'uncinetto. Oggi vi presento un progetto abbastanza particolare, ossia degli scaldamuscoli invernali lavorati con un filato effetto pelliccia. È veramente molto morbido al tatto e molto caldo. Gli scaldamuscoli in sé sono molto facili da lavorare, l'unica cosa che li rende un pochino più complicati è proprio l'utilizzo di questo filato effetto pelliccia difficile da lavorare. Come potete vedere qui ho messo un elastico che servirà per bloccare gli scaldamuscoli e non farli scevolare. Inoltre ho deciso di abilirli con dei pompon che potete tranquillamente non mettere oppure sostituire con dei brillantini, un filo di raso, insomma come preferite. Adesso vi lascio la spiegazione e mi raccomando se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre in descrizione vi lascio il link dei miei contatti social attraverso cui potete mandarmi le foto dei vostri progetti. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi. Quattro gomidoli di filato effetto pelliccia. Ho scelto la variante rosa sfumata ogni gomidolo pesa 100 grammi ed è lungo 60 metri circa. È un filato veramente molto morbido al tatto ed anche caldo. È una sorta di fettuccia, vedete? un uncinetto numero 8 un marca punto, vi consiglio questi di ferro che sono abbastanza grandi del filo e un ago per cucire un elastico alto circa un centimetro un metro da sarta Allora, prendo il filato, l'uncinetto numero 8 e realizzo un cappietto. inserisco l'uncinetto all'interno del cappietto e vado a caricare 25 catenelle ecco la prima catenella siccome il filato è molto vaporoso e si fa difficoltà a riconoscere i punti vi consiglio prima di continuare a lavorare le catenelle di inserire qui un marca punto in modo tale da riconoscere la prima catenella una volta effettuato questo passaggio vado a caricare le altre 24 catenelle a caricare le catenelle ho appena terminato di lavorare le mie 25 catenelle adesso prima di andare avanti con la lavorazione vi dico con esattezza quanto misurano queste catenelle e perché ho deciso di utilizzare proprio questa misura allora, metto la catenella tutta dal dritto mi raccomando, il dritto è la parte con più pelliccia mentre il rovescio del lavoro è la parte dove c'è il colore più scuro allora, la mia catenella misura senza tirarla mi raccomando 32 cm questo filato è abbastanza elastico infatti se lo tiro arriva anche a 38-39 cm quindi ho deciso di mantenermi su una lunghezza di 32 cm perché? perché ho preso la misura del mio colpaccio nella parte più grande e ho una circonferenza di circa 36 cm questa catenella, anche se misura a 32 cm una volta lavorata andrà ad allargarsi perché come vi ho già detto questo tessuto è abbastanza elastico quindi ho deciso di mantenermi su all'incirca 4 cm in meno rispetto alla misura della parte più grande del mio colpaccio quindi il mio consiglio è questo prendete la misura della parte più grande del vostro colpaccio e fate la catenella 4 cm più piccola rispetto a quella misura quindi ripeto, nel mio colpaccio misura 36 cm nella parte più grande ho lavorato una catenella di 32 cm adesso cosa faccio? metto la catenella tutta dal dritto tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto quindi nella prima catenella e chiudo il tutto con un punto bassissimo e questo è il risultato quindi una volta chiusa la catenella potete anche misurare sul vostro colpaccio se la misura va bene perché come vi ho già spiegato mano a mano che andremo a lavorare questa catenella si allargherà quindi adesso cosa faccio? metto il filo iniziale in orizzontale controllo di avere la catenella tutta dallo stesso lato e passando da sotto le catenelle in questo modo lavoro un punto basso mi raccomando passo sotto la catenella e non dentro adesso mi aiuto con le mani e trovo l'asola del punto basso e vado ad inserire il marca punto in questo modo so che qui inizia il mio giro adesso passo sempre sotto le catenelle e lavoro un nuovo punto basso passo sotto le catenelle e lavoro un nuovo punto basso passo sotto le catenelle e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della catenella mi raccomando fate sempre attenzione ad avere la catenella sempre dallo stesso lato quindi passo sotto la catenella e lavoro un punto basso mi raccomando dovete passare sotto e non dentro la catenella perché altrimenti il risultato non è bello inoltre essendo questo filato così vaporoso è anche molto difficile trovare la catenella invece in questo modo vedete viene un lavoro molto pulito allora io adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto della catenella e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare ho già lavorato l'altro scaldamuscolo quindi vi posso anticipare che per coprire tutta la catenella ho lavorato 36 punti bassi allora come potete vedere sono andata avanti e ho rivestito tutta la catenella a punto basso ed ho un totale di 36 punti bassi e questo è il risultato adesso cosa faccio non chiudo il giro a punto bassissimo ma continuo la lavorazione a spirale ma prima di andare avanti vi dico di quanto si è allargata la catenella iniziale adesso ho un totale di 18 centimetri piegata a metà quindi considerando la circonferenza ho un totale di 36 centimetri che è proprio la misura che mi serve quindi detto questo cosa faccio? sistemo bene tutti i punti in modo tale da avere la parte con la solina del punto basso davanti a me la riconoscete perché comunque si vede questa parte scura del filato quindi cosa faccio? una volta messo bene tutto il lavoro tolgo questo marca punto faccio attenzione a non perdere il segno poi entro qui con l'uncinetto e lavoro un punto basso poi mi aiuto sempre con le mani e trovo le due asoline di questo punto basso e vado ad inserire il marca punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro adesso sempre con l'aiuto delle mani trovo il punto successivo qui al tatto si sente il forellino del punto e vado a lavorare un punto basso adesso sempre con l'aiuto delle mani trovo il punto successivo e vado a lavorare un punto basso adesso sempre con l'aiuto delle mani trovo il punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare in questo modo tutto il resto del giro quindi con l'aiuto delle mani trovo il punto successivo e poi lavoro un punto basso l'importante è lavorare sempre punto su punto a punto basso e quindi avere alla fine sempre un totale di 36 punti quindi il giro è veramente molto semplice l'unica cosa che lo rende difficile è proprio riconoscere i punti ma l'importante è aiutarsi con la mano e trovare i vari fori altrimenti con l'uncinetto si tocca la parte successiva fino a trovare il foro quindi adesso vado avanti con il resto del giro e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione mi raccomando dovete avere sempre un totale di 36 punti bassi allora ho terminato anche questo giro e ho semplicemente lavorato punto su punto come vi ho spiegato e ho un totale di 36 punti bassi adesso cosa faccio? tolgo il marca punto tengo sempre con le dita il punto che avevo marcato e vado a lavorare proprio lì un punto basso poi con le mani mi aiuto sempre a trovare le due soline di questo nuovo punto basso e qui inserisco il marco punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro adesso semplicemente ripeto lo stesso giro di prima quindi con l'aiuto delle mani trovo il punto successivo e lavoro un punto basso sempre con l'aiuto delle mani entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro ossia con l'aiuto delle mani trovo il punto successivo e poi lavoro un punto basso mi raccomando devo lavorare punto su punto quindi alla fine del giro devo sempre avere un totale di 36 punti bassi e come potete vedere questo è l'effetto che si ottiene devo dire che è molto carino allora adesso continuo a lavorare così tutto il resto del giro poi una volta arrivata al 36esimo punto ripeto sempre lo stesso passaggio ossia con l'aiuto delle mani tengo il segno del punto che avevo marcato tolgo il marca punto entro lì e lavoro direttamente un punto basso quindi continuo a lavorare ogni riga punto su punto a punto basso e ogni giro lo inizio direttamente con il punto basso senza lavorare alcun punto bassissimo in questo modo il lavoro viene proprio perfetto allora io adesso vado avanti a lavorare sempre punto su punto tutti i giri fino ad arrivare ad un'altezza di circa 35 centimetri questa è l'altezza che ho deciso di realizzare per far arrivare gli scaldamuscoli all'incirca sotto il ginocchio se poi voi li volete più corti o più lunghi vi basterà cambiare le dimensioni dell'altezza e realizzarli a vostro piacimento potete sempre mano a mano provarli così vi regolate su come decidere io adesso vado avanti e noi ci rivediamo quando ho quasi terminato lo scaldamuscolo allora come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato che ho ottenuto ho lavorato tanti giri di punto su punto a punto basso ed ho sempre un totale di 36 punti bassi e adesso vi dico anche con esattezza quanto è alto il mio scaldamuscolo vi anticipo anche che per lavorare questo scaldamuscolo ho utilizzato un gomidolo e quasi tutto il secondo gomidolo allora sono arrivata ad un'altezza di 35 centimetri proprio come vi avevo anticipato prima e secondo me questa è l'altezza ideale per questo tipo di scaldamuscoli adesso cosa faccio sono qui alla fine del giro quindi tolgo il marca punto mi raccomando vi consiglio sempre di tenere con le mani il punto per non perderlo poi entro con l'uncinetto in questo punto e lavoro un punto bassissimo così in questo modo ho terminato la lavorazione poi lavoro una cadenella e taglio il filo ne lascio veramente tanto perché questo filo lo andrò ad utilizzare per cucire l'elastico allo scaldamuscolo quindi ho bisogno di tanto filato come potete vedere questo è ciò che mi ha avanzato del secondo gomidolo e lo utilizzerò per realizzare i pompon non vi faccio vedere come realizzarli in quanto si realizzano come i classici pompon e poi una volta tagliata tutta la superficie per rendere omogeneo il pompon otterrete l'effetto che poi vedrete dopo quindi una volta tagliato tutto il filo sfilo l'uncinetto tiro bene tutto e il mio scaldamuscolo è terminato ecco qui allora adesso cosa faccio metto un secondo da parte lo scaldamuscolo e vi faccio vedere come lavorare l'elastico che poi dobbiamo andare a cucire quindi prendo l'elastico lo metto sul tavolo prendo il metro e vado a prendere la misura che mi serve come vi ho già anticipato prima la parte più grande del mio polpaccio è 36 cm quindi io adesso vado a tagliare l'elastico in modo tale da renderlo stretto il giusto per poi non far cadere lo scaldamuscolo quindi ho deciso di mantenermi su una lunghezza di 35 cm quindi un centimetro in meno rispetto alla mia misura inoltre considerate che l'elastico deve essere cucito per renderlo una circonferenza quindi un altro centimetro poi viene rubato e alla fine in totale misurerà 34 cm che vi può sembrare stretto per la misura del polpaccio ma in realtà serve questa misura proprio poi per non far scivolare quindi una volta misurata questa grandezza cosa faccio considero quel centimetro in più che vi ho detto che ho misurato e vado a cucire l'elastico quindi prendo del filo e un ago per cucire lo utilizzo bianco in quanto l'elastico è bianco così poi non si vede niente e quindi cosa faccio prendo un po' di filo per cucire lo taglio e lo inserisco all'interno dell'ago mi raccomando utilizzate un ago con la punta appuntita una volta inserito il filo nell'ago lo piego in modo tale da avere due parti uguali e blocco il tutto con due o tre nodini in modo tale poi da non far fuoriuscire il nodino dall'elastico quindi una volta fatto già cosa faccio? misuro proprio un centimetro sull'elastico in modo tale da non rubare spazio e metto sempre l'elastico sopra ad un centimetro di distanza in questo modo adesso con il filo che ho preparato entro in questo modo nell'elastico e faccio passare il filo poi cerco di mettere questo filo in questo modo in modo tale da bloccarlo nella cucitura poi entro in un altro punto dell'elastico e sempre faccio passare il filo adesso semplicemente continuo a cucire in questo modo questa parte di elastico in modo tale da bloccare il tutto una volta bloccati di quattro lati vado a ripassare le cuciture in modo tale da assicurarmi che con il movimento di allargo l'elastico, chiudo l'elastico, questa cucitura non si spezzi, quindi la vado rafforzare, sempre nello stesso identico modo. Se avete la macchina da cucire potete semplicemente dare due punti con il punto zig zag e bloccare così l'elastico, invece se non l'avete potete cucire come sto facendo io, ossia entro in questo modo nell'elastico e cerco di ricreare il punto zig zag allora adesso provo se tirando l'elastico non si scuce la cucitura e una volta fatto questo vado a dare qualche ultimo puntino per bloccare bene il tutto. Ok adesso non si muove più l'elastico quindi cosa faccio vado ad assicurare la cucitura con alcuni nodini in questo modo mi raccomando prendete tutti e due gli strati di elastico e una volta assicurata bene la cucitura posso tagliare il filo in eccesso. Inoltre taglio anche il filo iniziale in eccesso e l'elastico è pronto ed ecco qui il risultato. Anche se la cucitura si vede non fa niente perché tanto poi tutto l'elastico andrà nascosto nello scaldamuscolo e quindi non si vedrà niente. Allora adesso riprendo lo scaldamuscolo e vi faccio vedere come cucire l'elastico. Allora riprendo la parte dove prima ho lasciato il filo e proprio qui vado ad inserire un ago da lana o un ago tira fettuccia quindi un ago con un foro largo e comunque anche abbastanza grande in modo tale da non avere difficoltà nella cucitura. Ok una volta inserito il filo nell'ago cosa faccio? Metto in questo modo lo scaldamuscolo devo avere il dritto del lavoro davanti a me poi inserisco l'elastico all'interno in questo modo quindi lo posiziono poi con l'ago entro nel chiamiamolo rovescio del lavoro passo sotto l'elastico quindi mi raccomando calcolate bene la misura perché l'elastico deve rimanere dritto e non si deve piegare ed entro in questo modo con l'ago e faccio passare il filo allora adesso siccome non riesco ad inquadrare bene la lavorazione giro lo scaldamuscolo in modo tale da farvi vedere proprio il rovescio del lavoro e come inserisco l'ago quindi come potete vedere entro sotto l'elastico in modo tale che rimanga ben dritto e faccio passare in questo modo il filo poi faccio attenzione a come si vede il filo in quanto la parte con la pelliccia è quella che si deve vedere quindi una volta fatto questo cosa faccio tiro bene il filo poi entrando sempre dal rovescio del lavoro quindi come ho fatto prima passo sempre sotto l'elastico cerco di rimanere nella stessa altezza di prima e faccio passare in questo modo il filo e faccio sempre attenzione ad avere la parte di pelliccia visibile ed ecco qui il risultato vedete non si vede niente sulla lavorazione in quanto sembra sempre parte della lavorazione e l'elastico in questo modo viene coperto e non si vede allora adesso entro sempre nello stesso identico modo e vado a far passare il filo quindi semplicemente continuo a cucire così tutto l'elastico e questo è l'effetto quindi semplicemente ripeto sempre lo stesso passaggio sia entro dal rovescio con l'ago e poi faccio passare il filo facendo attenzione a farlo capitare dalla parte della pelliccia e non della fettuccia così poi tiro bene il filo e continuo allora io adesso vado avanti con la cucitura per qualche altro centimetro noi ci rivediamo quando sono arrivata più o meno ad un quarto della cucitura così vi faccio vedere come poi dovete continuare per far combaciare bene l'elastico allo scaldamuscolo quindi fino adesso continuo a lavorare così quindi entro dall'esterno passo sempre sotto l'elastico e tiro il filo facendo attenzione a far rimanere la parte con la pelliccia come cucitura allora io adesso vado avanti noi ci rivediamo tra un po' per vedere come continuare la cucitura allora come potete vedere sono andata avanti con la cucitura e più o meno ho cucito un terzo dell'elastico e questo è l'effetto vedete anche se tiro l'elastico non si vede niente allora come potete vedere adesso l'elastico è molto più piccolo rispetto allo scaldamuscolo e così ho difficoltà a cucirlo anche perché non mi posso regolare se l'elastico sta bene oppure si sta restringendo quindi cosa faccio tiro l'elastico in modo tale da averlo attaccato allo scaldamuscolo in questo modo vedete così riesco ad appoggiare l'elastico allo scaldamuscolo e semplicemente continuo la cucitura proprio come ho fatto fino ad ora ossia entro sempre nella parte interna della lavorazione faccio passare il filo e faccio sempre attenzione ad avere la parte della pelliccia come cucitura e semplicemente continuo a cucire così e ripeto questo passaggio fino alla fine dello scaldamuscolo quindi mano a mano quando ne ho bisogno tiro l'elastico in modo tale da farlo combaciare con lo scaldamuscolo e poi semplicemente riprendo la cucitura se c'è bisogno in certi punti passo anche due volte l'importante è cucire bene l'elastico noi ci rivediamo quando ho terminato il giro così vi faccio vedere come bloccare la cucitura e terminare lo scaldamuscolo allora come potete vedere ho terminato di cucire tutto l'elastico e adesso non mi rimane altro da fare che andare a bloccare la cucitura allora come potete vedere se io tiro l'elastico non si vede niente quindi adesso cosa faccio entro per l'ultima volta sempre dal rovescio del lavoro e faccio passare il filo in questo modo adesso tiro bene il filo lo sistemo in modo tale da avere la cucitura perfetta ok adesso cosa faccio entro nella solina della prima cucitura in questo modo quindi vedete prendo sul lago la solina della cucitura proprio in questo modo e semplicemente vado a fare un nodino per bloccare il tutto una volta fatto il nodino tiro bene e la cucitura è bloccata tiro 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 ecco mi si è spezzato il filo voi cercate di non farlo spezzare allora adesso anche se il filo è un pochino risicato lo vado a nascondere e così se dovesse succedere una cosa del genere anche voi sapete cosa fare allora adesso prendo un uncinetto più piccolo e semplicemente passo attraverso le varie asoline della cucitura in questo modo e poi tiro il filo in eccesso e lo faccio passare attraverso le varie asoline in modo tale da nasconderlo così e questo è il risultato adesso tiro bene l'elastico e il mio scaldamuscolo è terminato se voi a differenza mia riuscite a non far spezzare il filo semplicemente con l'ago passate in questo modo quindi passate sempre dentro le asoline della cucitura e fate passare il filo magari un po' di più rispetto a quello che è rimasto a me per essere proprio sicuri e poi semplicemente lo scaldamuscolo è terminato allora adesso con la lana che mi è rimasta vado a realizzare due pompon non ve li faccio vedere in quanto la lavorazione è sempre la stessa e noi ci rivediamo per vedere come cucire questi pompon allo scaldamuscolo allora ecco qui il pompon pronto come potete vedere è un classico pompon realizzato come quelli di lana l'unica differenza è che ho lasciato il filo con cui ho chiuso il pompon più lungo in modo tale da poterlo attaccare allo scaldamuscolo quindi cosa faccio? posiziono il pompon all'altezza in cui lo voglio fissare vi consiglio sempre sotto l'elastico in modo tale da non avere poi problemi e cosa faccio? giro lo scaldamuscolo dal rovescio del lavoro con un uncinetto più piccolo entro dal rovescio e tiro i fili che ho lasciato del pompon proprio in questo modo poi una volta fatti passare i due fili cosa faccio? vado a bloccare il tutto con un nodino così e adesso do un altro nodino in modo tale da assicurare bene il pompon perfetto adesso sempre con l'aiuto dell'uncinetto più piccolo vado a nascondere queste due codine attraverso i vari punti lavorati in questo modo non si vede niente quindi Ok, ho nascosto le codine e questo è il risultato, il pompon è assicurato ed è messo come desidero io. Nello stesso identico modo posiziono l'altro pompon e lo vado a bloccare, non ve lo faccio vedere perché il passaggio è sempre lo stesso. Poi sempre nello stesso identico modo vado a realizzare anche l'altro scaldamuscolo e ad applicare gli altri due pompon. Allora come potete vedere gli scaldamuscoli sono pronti e questo è il risultato. Devo dire che per le persone molto freddolose questa è una soluzione veramente perfetta. Qui è dove ho cucito l'elastico e poi serve per far rimanere fermi gli scaldamuscoli. Poi se volete dentro potete anche foderarli magari con un vellutino per proprio non fare scivolare gli scaldamuscoli anche nel caso in cui indossate dei tessuti particolarmente scivolosi. Questo poi dipende sempre dal vostro gusto. Io li ho realizzati per regalarli ad una persona perché devo essere onesta non li indosserei perché non sono un amante di questo tipo di cose. Comunque li ho decorati con dei buon porn ma potete tranquillamente non metterli e lasciarli così semplici oppure mettere dei brillantini, del raso oppure delle applicazioni di vostro gusto. Questo dipende tutto da voi quindi spero tanto di ricevere qualche foto delle vostre creazioni attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione. Io adesso vi saluto noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto e mi raccomando se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille, ciao ciao!